Porta logica NOR, non è una parolaccia, ma è una porta logica fatta come segue. È una porta logica OR con un pallino alla fine. Si chiama NOR, che vuol dire? Non è altro che la porta logica OR, vista in precedenza, con due ingressi e un'uscita, incascata a una porta logica NOT, vedete? Quindi non è altro che una OR più una NOT. Detto in termini, in parole povere, diciamo, non fa altro che negare l'uscita A più B. Se abbiamo un'uscita C che va in ingresso a una porta logica NOT, avremo un'uscita C negato, ovvero C con questo trattino sopra. Che vuol dire che se C vale 0, in entrata una porta logica NOT, quindi se l'uscita della porta logica OR vale 0, in entrata una porta logica NOT vale il contrario di 0, ovvero 1, perché 0 negato è 1, ovvero l'interruttore della luce spento, il negato di spento è acceso, è 1. Per fortuna, stiamo in logica binaria, di conseguenza abbiamo solo due numeri, quindi il negato di un numero è il suo contrario, non abbiamo altre possibili combinazioni, tanto è vero che se abbiamo C negato, non è altro che 0. Di conseguenza, fatte queste considerazioni così forbite, non ci prendete in giro, vediamo una tavola di verità, detta anche da tanti, tabella di verità. Supponiamo di avere quindi due ingressi, pip e pluto, ovvero A e B, facciamo per comodità, e un'uscita C, avremo quindi A e B in ingresso e, vediamo una linea drittissima, C. Quindi avremo 0, 0, 1, 1, 0, 1, perché se lo leggete per orizzontale, non abbiamo altro che tutte le possibili combinazioni degli ingressi A e B, ovvero A vale 0 e B vale 0.